Elezioni amministrative Catania 2018 Domenica 10 giugno dalle 7 alle 23 si vota per il rinnovo del sindaco, dei consiglieri comunali, dei presidenti delle sei municipalità e dei rispettivi consiglieri di quartiere. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento d'identità valido e la tessera elettorale. L'elettore avrà due schede, una rosa per il quartiere e una azzurra per il comune. Nella scheda rosa l'elettore potrà fare una X sopra il nome del candidato presidente e successivamente fare una X su una delle liste ad esso collegate con possibilità di scrivere il nominativo di un uomo e di una donna appartenenti alla medesima lista. Nella scheda azzurra l'elettore potrà fare una X sopra il nome del candidato sindaco e successivamente fare una X su una delle liste ad esso collegate con la possibilità di scrivere il nominativo di un uomo e di una donna appartenenti alla medesima lista. Nella scheda azzurra l'elettore potrà fare una X sopra il nome del candidato sindaco e successivamente fare una X sopra il nome del candidato sindaco e successivamente fare una X sopra. Grazie a tutti